Sul tema delle fake news, secondo te si può pensare di utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale o magari ce li stanno utilizzando Facebook e altre aziende per contrastare questo fenomeno? Sicuramente il tema che sollevi è un tema allargato ed è legato anche all'informazione tradizionale a mio avviso è molto più legato a questo ambito che non alle nuove tecnologie e ai nuovi media il tema strumenti di intelligenza artificiale sono applicati al mondo dell'informazione sia a livello di scrittura, dei testi, abbiamo molti esempi di sistemi di scrittura di testi pensiamo a tutti gli ambiti che hanno molti dati, come dicevo prima dal meteo ai rapporti finanziari a qualunque articolo che è basato su molti dati di fondo oggi spesso vengono creati automaticamente da sistemi avanzati di intelligenza artificiale o automatici a seconda della tecnologia impiegata